Padre Universale a sconfiggere ogni indifferenza quando a regnare sarà l'amore sarà la luce divina a riscaldare finalmente la nostra coscienza non perverserà più quel male trasparente che filtra in noi indisturbato, ma il caldo dell'amore infinito donaci il silenzio per il dolore fisico perché il dolore serva a capire la nostra disarmante fragilità umana di cui siamo generati l'uomo incosciente del potere genera odio tra esseri, il quale odio rivive ancora in questo tempo l'indifferenza che respira la razza umana non risparmia nessuno sta a noi essere capaci di essere altro, oltre la vita e l'amore per cui siamo